Allora, eccoci qua, vedi? Ciao. Allora, in questo momento siamo sulla Mulberry, vado a fare la ripresina alla Mulberry, che è praticamente una delle uniche vie ormai di Little Italy, nel senso che ormai Little Italy, siccome China Town se la mangia così, sono rimasti proprio pochissimi. C'è giusto qualcosa qui sulla Grand Street, vedi? Per esempio, lì c'è mozzarella, ricotta, vedi? Piemonte, ravioli, Florios, ristorante. Qui altri locali, ristoranti così, però ormai è quasi praticamente questa l'ultima via di Little Italy. Vedi lì che c'è anche Benito II. Qui dove c'è il food center ci sono delle robe buonissime, tra cui anche il pane, che non è male. Allora, questo è il food center, vedi? Italiano, ci sono i provoloni, vedi? I pomodori pelati. Di qua si vede il pane, guarda, queste sono le panchine dove ti prendi da mangiare e vieni qua. Poi c'è tutto il pane italiano, che sembra un po' quello di Altamura, le cose. Loro sono italiani! Oh no, siete italiani? No. Ah, non vuoi, non vuoi, non vuoi. Ok, ok, sorry, sorry, sorry. Sorry, ok, sorry. Vedi tutte le fotografie di Audrey Hepburn, vedi? Vedi che belle che sono. Qua ce n'è una che è questa che io voglio assolutamente comprarmi. Io sono un collezionista di fotografie. Capito? Di Audrey Hepburn. Ah, sei tutto chiacchiere indistintivo, sei solo chiacchiere indistintivo. Grandissimo, e questi? Po, 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 po.